Bitonto Barletta non sarà una partita come le altre, non solo per la posta in palio, anche Seva, ricordato, siamo solo alla quinta giornata di un campionato, quello di Serie D, Girone H, già molto avvincente. Non solo perché i neroverdi sono alla ricerca dei loro primi tre punti in stagione in uno scontro che mancava da ben sette anni. Bitonto Barletta sarà una partita speciale soprattutto per due calciatori che, negli ultimi anni, sono stati leader in campo e fuori dei leoncelli. Per Andrea Petta e Riccardo Lattanzio quella di domenica sarà una gara dal sapore speciale e nostalgico. Torneranno a Bitonto, anzi a Bisceglie, questa volta da avversari, ma il passato difficilmente si dimentica. Andrea Petta, 30 anni, esperto difensore centrale con importanti match disputati anche in Serie C, a Bitonto ha portato tutta la sua esperienza. Quasi 5.000 minuti in due stagioni, 5 reti e 2 assist in 63 presenze totali. Un vero e proprio baluardo per la retroguardia neroverde. Bitonto è la piazza in cui, proprio dopo Bisceglie, ha giocato e segnato di più. E poi c'è Riccardo Lattanzio, di anni 33, che nelle ultime due annate ha addirittura indossato la fascia di capitano Bitontina. 99 presenze condite da 35 gole e 14 assist, sono questi i numeri dell'attaccante nativo di Andrea con la maglia neroverde. Meglio nella sua carriera non ha mai fatto. Per lui tre stagioni totali nella città dei Santi Medici, con il Bitonto aveva anche trovato sul campo la promozione in Serie C. Mister Valeriano Losetto li conosce bene, avendoli allenati sul terreno di gioco del Città degli Olivi e non al Gustavo Ventura di Bisceglie, stadio in cui andrà in scena il big match di domenica. Un tuffo nel passato per Petta e Lattanzio in quella che è una sfida storica e avvincente. Un derby tutto pugliese tra Bitonto e Barletta che può già dire molto su questo campionato, nella speranza, cari Andrea Enricchi, che questa volta la legge del gol dell'ex si tenga la larga dallo stadio Ventura.